C'è una giornata terribile per il Paese, purtroppo siamo stati colpiti nella cosa che più ci sta a cuore, la scuola, i nostri giovani, luogo di democrazia, luogo in cui si costruisce il nuovo Paese. Purtroppo per ora non ci sono ancora elementi e il Ministro Cancellieri arriverà nel secondo pomeriggio. Dottore, che cosa è emerso da questo incontro? Ci siamo un po' confrontati sulle possibilità e abbiamo visto che in realtà l'impressione è di un atto che possa avere una risonanza terroristica che non siamo ancora in condizioni di attribuire e di ricostruire in maniera esaustiva. Ci sono tante coincidenze, ma potrebbero essere solo tali. Qualcuno che potrebbe aver usato queste coincidenze magari per non far capire la matrice del gesto? Ma bisogna comunque chiedersi cui protesta, a chi interessa, a chi se ne avvantaggia. In genere gli atti terroristici vengono rivendicati, qui rivendicazioni non ce ne sono. Un particolare che mi ha colpito, le organizzazioni mafiosi e criminali usano l'esplosivo, qua sono state usate delle bombole di gas. E quindi potrebbe non essere un'organizzazione mafiosa. Il terrorismo internazionale, procuratore? È un'ipotesi ma non accreditabile sulla base di elementi oggettivi, quindi fino a quando non abbiamo degli elementi che consentono una lettura tranquilla io mi asterrei dalle valutazioni che possono creare ulteriori allarmi. Perché Brindisi e non un'altra città? Ma l'ho chiesto anch'io. Dal momento non ci sono ipotesi su cui si può ragionare in termini concreti. Siamo tutti molto interessati alle condizioni dei ragazzi e noi soprattutto degli enti locali, del territorio, seguiamo con molta apprezzione gli sviluppi che ci arrivano dall'ospedale. Sul piano investigativo è chiaro che vorremmo saperne di più. Un dato è certo, forse io mi sento di escludere un ruolo a qualsiasi livello della criminalità organizzata, soprattutto di quella locale. Mi sembra che la metodologia utilizzata non risponda in alcun modo a queste caratteristiche. Ho visto i feriti e ho visto soprattutto la ragazza morta. Non si può vedere una ragazza che era destinata al banco di scuola, nella gioia dei suoi colleghi e dei suoi educatori, su un banco della camera mortuaria, annerita e senza speranza. Nessuno può andare fiero di queste cose. E mi auguro che anche la città intera, nello sgomento, sappia aprirsi ancora di più a gridare la vita e il valore della vita. Molte volte si scherza su queste cose. La lotta alla mala vita si fa con la buona vita, con la vita buona e noi dobbiamo continuare su questo.